Onore alla dottoressa Cassaniti che vuole fare chiarezza sulla IFVS la dottoressa Cassaniti finalmente fa sapere ai soci che ci sono delle dispute giudiziarie riguardanti la IFVS brava la dottoressa Cassaniti che non mette la testa sotto la sabbia e dal sito vittimestrato.org sito ufficiale della IFVS Ollus ci rende dotti del fatto che ad oggi innanzi al Tribunale di Roma sono stati presentati due ricorsi ad opera dell'ex socio Pallotti Alberto e che i due ricorsi sono stati respinti perché dichiarati inammissibili. Grazie prof. Perché, visto che vuoi fare chiarezza, io ho piena fiducia in te e se dici che i due ricorsi sono stati respinti perché dichiarati inammissibili, ti credo sulla parola, perché, dicevo, non ci dici perché sono stati dichiarati inammissibili? Quindi, magari, ma parlo tanto per parlare a Bambera, era solo sbagliato l'indirizzo della notifica. Io, come tutti i soci, aspetto con ansia la sentenza di un giudice che, dopo aver esaminato il verbale relativo all'assemblea del 27 aprile 2013, dica che essa non è valida. Mi perdonerai, ma l'assemblea del 27 aprile 2013 è stata dichiarata sciolta? Da chi? Mi ricordi, mi rivolgo alla dottoressa Cassaniti, mi ricordi quando ho fatto l'amministratore di condominio. Durante una riunione condominiale, un condomino, siccome non voleva che venisse approvato un certo provvedimento, abbandonò la riunione condominiale. Il provvedimento a lui sgradito venne approvato dall'assemblea condominiale e lui cominciò a presentare ricorsi, sostenendo che l'assemblea non era valida perché non era presente lui al momento della votazione. E questo adesso è il comunicato della dottoressa Cassaniti, pubblicato sul sito vittimestrata.org. Facciamo chiarezza sulla IFVS. In questi giorni sono state diffuse notizie infondate in ordine al riconoscimento della qualifica di rappresentante legale dell'IFVS. Si ricorda che il tribunale competente in merito è quello di Roma, ove l'IFVS ha la propria sede legale. Ad oggi, innanzi al tribunale di Roma, sono stati presentati due ricorsi, ad opera dell'ex socio Pallotti Alberto. I due ricorsi sono stati respinti perché dichiarati inammissibili. Nessuna legittimazione possono vantare i soggetti sedicenti presidente e componenti organi associativi dal momento che l'assemblea del 27 aprile 2013 è stata dichiarata sciolta. In ordine ad ogni altro atto che possa avere leso i diritti ed il patrimonio dell'IFVS, l'associazione rassicura ai soci che gli interessi saranno tutelati nelle sedi opportune. Roma, 16 ottobre 2013. Giuseppa Cassaniti